La nave permacultura Verrua-Savoia, provincia di Torino Siamo qui vicino E' un progetto che si è già presentato l'anno scorso nei nuovi progetti Rive Quindi Allora, ci si occupa chiaramente di permacultura L'esigenza principale in questo momento è di fare rete Quindi si sta sviluppando come una sorta di ecovillaggio diffuso sulle colline del Monferrato intorno ai paesi di Verrua, Casale e Castelnuovo per chi è della zona Siamo lì un gruppo operativo Siamo una decina che ognuno ha la sua realtà e poi invece nel nucleo di Verrua-Savoia dove ci ritroviamo più spesso organizziamo eventi e feste Quello che sento importante è proprio questo fatto di fare rete che fa sì che le forze si moltiplicano in tutti i nostri progetti e fa sì che non ci scoraggiamo Quest'estate quello che ci impegnerà di più l'estate scorsa avevamo fatto un corso di permacultura invece quest'estate faremo due corsi di biocostruzione con cui tireremo su una casetta in biocostruzione dal nulla nel bosco per chi è interessato rivolgetemi a me sono Lapis fra i volontari mi trovate sempre in giro a fare il pagliaccio grazie